Ciao Giulio, il salutatore è unico amore, tu sei umilatissimo, ti volevo chiedere una cosa, un saluto a tutti i tuoi fan nuovamente direttamente dal campo del Bettini, un saluto, ciao ciao, ciao e una sorpresa per te perché te la devo dare, ecco qua, la mania del salutatore, ciao!